La prima domanda che volevo rivolgere riguarda come coniugare le bellezze paesaggistiche che ci circondano delle Dolomiti con la necessità di costruire impianti di risalita. A Cortina il primo pianto è stato realizzato nel 1924, quindi sono passati diversi anni, c'è sempre stato un connubio tra impianto e godimento della montagna ed è un discorso che noi continuiamo a portare avanti nonostante la crisi economica. C'è qualche nuovo progetto in cantiere? Sì, ci sono dei progetti in cantiere che per noi sono molto onerosi, dato il numero di passaggi esiguo che stiamo facendo in questi ultimi anni ci saranno sicuramente dei problemi dal punto di vista del finanziamento. I progetti stanno andando avanti, tanto hanno un ITER comunque di due anni, poi vedremo se con i mondiali o se con altre soluzioni economiche riusciremo poi a realizzare e a concludere. Di che numeri stiamo parlando nell'ultimo periodo in quanto a transito di persone? Beh, noi facciamo circa 8 milioni di passaggi l'anno, siamo circa il 5% all'interno del Dolomiti e Supeschi, quindi su 12 valli abbiamo una quota di minoranza, dato che a Cortina comunque si viene anche per sciare e quindi il problema del numero limitato di passaggi esce proprio da questo tipo di problematica. Ma avete pensato di fare progetti come ci sono ad esempio in Piemonte che si può girare su più valli, per esempio, come la famosa Via Lattea? Sì, beh, la Via Lattea è un po' la fotocopia di quello che è il Dolomiti Supeschi, noi siamo tra i soci fondatori, però devo dire che siamo stati esclusi in questi ultimi anni da quello che è il collegamento con il Giro del Sella, che è il perno, il nucleo principale del Dolomiti Supeschi, quindi stiamo diventando una località periferica. Da qui abbiamo una serie di progetti che attraverso il passo Giau dovrebbero collegarci ad Araba e quindi rientrare nel circuito quello buono.